Ogni anno 7.000 persone in Italia perdono la vita a causa di incidenti stradali. Domenica 13 novembre a Castiglione delle Stiviere nella Basilica di San Luigi Gonzaga si terrà la Santa Messa per le vittime della strada. La giornata è organizzata dalla Sociazione Europea Familiari e Vittime della Strada Onlus e vuole ricordare tutti i ragazzi che hanno perso la vita e soprattutto si propone di fermare e prevenire le tragedie sulla strada. La mattinata allora inizia verso le ore 9 dove porteranno nella piazza della Basilica di San Luigi i veicoli incidentati per dare maggior risalto e far vedere appunto ai diversi spettatori quello che succede andando non correttamente sulle strade. Domenica 13 non sarebbe la giornata mondiale delle vittime della strada però non la ricorriamo e siccome che la Basilica di San Luigi è la sede mondiale delle vittime della strada ricorderemo queste vittime. Personalmente per l'associazione vado a sensibilizzare gli studenti nelle scuole d'Italia gratuitamente per la sicurezza stradale cioè praticamente parlo di guida in stato d'ebrezza, guida sotto l'effetto di droghe e guida rispettando il codice della strada. E quanto è difficile questo? È molto difficile però io vedo che i ragazzi stanno molto attenti e fanno anche molte domande perché non conoscono moltissime cose del codice della strada e non conoscono nemmeno quello che succede dopo nelle famiglie.